Clara, ricevi questo anello come segno del mio amore e della mia fedeltà. La gente deve sapere cosa sta succedendo. Questo finisce su internet. No, che puttanata del chie. Spegni la. È la nostra famiglia. Clara! Diego! Aiuto! Non lo scappiamo! Sto malato! Ti devo trovare, Clara. Non vi siete accorti di nulla? È successo una cosa. Oggi è il mio giorno. Rack 3, la Genesi. Sette, non sposatevi mai. Rack 3, la Genesi. Rack 4, la Genesi. Sette rischia. Rack 5. Rack 5. Rack 5. Rack 5. Grazie.